La regione intervenga per sostenere le piccole e medie imprese siciliane titolari di emittenti televisive. La richiesta arriva dal deputato Allarsenello Musumeci che in una interrogazione ha rivolto un appello al governo regionale affinché non abbandoni al proprio destino le tante emittenti che operano nell'isola. Diverse regioni italiane, spiega Musumeci, hanno già provveduto a pubblicare bandi per l'assegnazione dei fondi propri e comunitari destinati alle piccole e medie imprese che operano nel settore televisivo e che hanno dovuto affrontare spese non indifferenti per il passaggio dal sistema analogico al digitale terrestre. Specie in un momento di crisi come questo, aggiunge il deputato regionale, occorre un reale sostegno a queste aziende per favorire lo sviluppo tecnologico e l'aggiornamento professionale del personale. La richiesta di Musumeci arriva dopo che nelle settimane scorse aveva invitato il governatore ad accelerare tempi per non mettere a rischio centinaia di posti di lavoro. In campagna elettorale il presidente Crocetta aveva detto, le Anza aveva dichiarato ufficialmente che si sarebbe impegnato per trovare una soluzione alla crisi delle tv private siciliane costrette a ricorrere a licenziamenti e cassa integrazione pur di restare a galla. Così come le Anza, anche Musumeci chiede al presidente della regione quali iniziative si intendano adottare nei tempi che la drammaticità contingenza impone per venire incontro alle problematiche delle emittenti radio televisive locali e determinare le condizioni per il rilancio del comparto e per la tutela dell'occupazione. Le emittenti radio televisive locali costituiscono presidi fondamentali per assicurare alla cittadinanza un'informazione libera al plurale e legata alla specificità e alle problematiche del territorio e che il passaggio al digitale terrestre ha comportato costi estremamente rilevanti per le aziende. Per tale motivo scrivono, in mancanza di un intervento statale che ponga in via generale le premesse per la tutela e per il rilancio del settore sono le regioni a essere chiamate a un intervento che eviti la pratica desertificazione del panorama dell'emittenza locale.